La Gori starebbe violando regole e buonsenso, ancora di stacchi selvaggi da parte degli operatori della Gori in giro per le abitazioni private ad intimare la chiusura del contatore a utenti che non sarebbero in regola con il pagamento delle bollette, nonostante non abbiano ricevuto preavvisi. Gli attivisti della Rete Civica per l'Acqua Pubblica hanno raccolto negli ultimi giorni numerose segnalazioni di cittadini e residenti in diversi comuni dell'area nord della provincia di Salerno. Si parla di comportamenti intimidatori che ledono i diritti dei cittadini nella nota stampa inviata questa mattina, aggravando in particolar modo gli effetti sulla collettività della grave pandemia sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno e che violano apertamente la delibera di regolamentazione dei distacchi e della riduzione del flusso approvata lo scorso 15 dicembre dal Consiglio di distretto dell'ente idrico campano a tutela di tutti gli utenti. Il provvedimento è molto chiaro, scrivono, il gestore Gori deve preannunciare le azioni di distacco e riduzione del flusso comunicando all'utente interessato il giorno e l'ora dell'intervento con almeno 10 giorni di anticipo. Inoltre il gestore è impegnato a comunicare ai servizi sociali del Comune le utenze interessate al fine anche di evitare le condizioni per l'accesso alle misure agevolative previste dalla disciplina vigente. Tra l'altro il gestore Gori sta smentendo addirittura se stesso contraddicendo quanto pubblicato sul sito web nell'avviso all'utenza dell'8 marzo scorso in cui comunicava di interrompere ogni attività che prevede l'accesso alle abitazioni. I comitati riuniti nella rete civica per l'acqua pubblica si dicono pronti a dare battaglia. Siamo costretti a constatare che Gori non si ferma davanti a niente né davanti a una delibera di regolamentazione dell'ente idrico campano né davanti al dramma della pandemia sanitaria del secolo. Continueremo a vigilare sul rispetto delle regole da parte del gestore e sulla piena tutela dei cittadini per mettere finalmente uno stop definitivo a riduzioni di flusso e di stacchi selvaggi. Il nostro obiettivo rimane il blocco permanente di ogni tentativo di sospensione, l'accesso all'acqua, un diritto umano universale e una condizione essenziale per sconfiggere la drammatica emergenza igienico-sanitaria che stiamo vivendo, mentre i 13 consiglieri di distretto appartenenti alla rete dei comuni per l'acqua pubblica chiederanno ufficialmente chiarimenti immediati alla Gori e all'ente idrico campano sul mancato rispetto delle regole e lo stop ad ogni forma di distacco. Gori sta proseguendo il proprio operato in maniera corretta e conforme a quanto stabilito dall'autorità regolatoria nazionale che in gran parte già assorbe quanto oggetto della delibera del Consiglio del distretto dell'ente idrico campano scrivono dalla Gori, peraltro questa delibera è attualmente al vaglio dei competenti organi dell'EIC e quindi al momento non esecutiva. Gori non è affatto insensibile alle problematiche sociali, scrivono a tal proposito, si ricorda ai cittadini, la possibilità di accedere ad una importante misura di sostegno al reddito che è il bonus idrico e abbiamo anche richiesto una proroga per l'utilizzo delle somme residue stanziate per il bonus integrativo, concludono dalla Gori. Grazie a tutti.